Musica Ben trovati a tutti i nostri telespettatori con il nostro spazio dedicato ai messaggi elettorali a pagamento. Con noi oggi in studio il candidato al Consiglio Comunale per il PDL a sostegno del sindaco usciente Gianni Moscherini, Giancarlo Frascarelli. Buonasera. Buonasera a tutti. Parliamo iniziando con l'apertura della campagna elettorale non soltanto del sindaco Gianni Moscherini alla presenza del governatore del Lazio Renata Polverini, ma all'apertura della campagna elettorale proprio di tutta la coalizione delle Largentese. Credo che sia stata doverosa in rispetto e nella logica di una campagna elettorale già comunque ormai iniziata, avviata, dove si è sentito parlare molto dei tanti sindaci, insomma del grande fermento e dei numeri dei consiglieri comunali, che è la grande coalizione uscente delle Largentese, che ha comunque, come io ho sempre sostenuto, ottenuto il suo primo record, il suo primo step, quello di arrivare a conclusione. Perché non ci dimentichiamo che il nostro candidato Giovanni Moscherini è il candidato che dopo tanti anni, dal 1994, quando gli anni erano 4, è stato il primo a, comunque sia, quindi ragazzi subito dopo la prima repubblica ci fu la nuova legge, il 1994 fu il primo mandato, quindi è stato il primo oggi, nel 2012, che ha terminato, ecco siamo nella fase elettorale, nella composizione delle liste, dei nomi dei candidati, che ha terminato il suo coinquennio. E questo per una città che vuole parlare di sviluppo, una città che comunque crede nel suo futuro, una città che prepara progetti che si sono conclusi e avvia quelli nuovi. Da concludere, una città che ha bisogno di molti anni per cambiare il suo volto, ha bisogno di un'amministrazione duratura, un'amministrazione che comunque abbia saputo dimostrare e può dare speranza ai civili da vecchiesi di continuare nei secondi cinque anni con un'amministrazione salda, non fatta di piccoli frangenti amministrativi e grandi frangenti come è accaduto dal 2008 al 2007, anno in cui è stato eletto Moscherini, che ha fatto sì che in questi frastagliamenti si sono inseriti poi i commissari prefettizi, perché la legge è così prevede, i quali hanno comunque condotto un'amministrazione ordinaria, comunque con idee non proprio simili, comunque idee diverse, hanno creato non poche questioni ai cittadini, perché i progetti iniziati dall'amministrazione sono goduti e poi sono stati portati avanti da chi comunque sapeva già che in un breve tempo, un anno, sei mesi, doveva andare via. Allora io credo che l'apertura di ieri, che tra l'altro poi va ricordata e memorizzata dai civili d'Avecchiesi come una grande apertura e non lo dico perché comunque sia, come si dice, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, lo dico perché le fotografie, le riprese che ci saranno, che faranno vedere la espressione del nostro candidato sindaco sicuro, fermo nella sua, credo già assaporare il suo credo e nella sua vittoria, dico io per quello che ho visto, ha visto un teatro gremito, ma un teatro che ha fatto vedere già un apoteosi di una cività vecchia che comunque sta intorno a questa amministrazione. Non è un'amministrazione come vuol far credere qualcuno, che è sola, che non ha i numeri, è un'amministrazione che non solo ha i numeri per i candidati, ma è un'amministrazione che riesce a muovere dopo cinque anni centinaia e centinaia di persone in quello che ha visto un teatro, non solo colmo per quello che è la sua possibilità, ma tanto pubblico all'esterno che era curioso di sentire il sindaco parlare il politichese, perché va detto anche questo, parlare di campagna elettorale, parlare dei progetti futuri, perché fino ad oggi l'amministrazione, e ancora oggi, sta governando e il sindaco è preso dalle tante questioni che sono ancora in ballo e che devono essere concluse, come quella che abbiamo concluso da poco, quella termale, che è un grande successo per Ciechia, come l'abbattimento dei silos, l'inizio dei lavori, opere che hanno visto impegnata l'amministrazione per tanti anni e che ha visto Moscherini non poter fare in quel periodo in cui ci sono state le primarie, in cui ci sono state già le composizioni delle composizioni dei candidati sindaci che si propongono come alternativa non hanno potuto vedere la soddisfazione degli elettori, comunque dell'elettorato del centro-destra e delle langrentese poter vedere la figura del sindaco fare la campagna elettorale che oggi è iniziato. Bene, ieri io ero in prima fila, ero lì insieme ai tanti personaggi regionali, ai tanti personaggi e le figure che stanno intorno a questa amministrazione che tra l'altro hanno detto a chiare note, è importante, cari amici di Civitavecchia, che il filone, regione, città, porto non si interrompa per i tanti processi che stanno andando avanti, processi che faranno sì, che vedranno la conclusione dei progetti. Ci sono delle questioni importanti avviate che necessitano del proseguo di questa amministrazione, lo ha detto la Renata Polverini, anche per il discorso del piano casa come ha detto il vicepresidente della regione, insomma io credo che l'amministrazione sia partita bene per la sua conclusione e credo che stia guadagnando tanto terreno e lo si sente nell'aria e lo abbiamo visto ieri, ieri io veramente mi immaginavo tanta folla perché i candidati sono tanti, ma non con questi numeri, numeri che dimostrano che questa amministrazione se gli va male andrà al ballottaggio. Io credo in una vittoria schiacciante al primo turno, sono convinto di questo perché lo registro nella mia sede, lo registro nella mia sede per tanti motivi. Uno, quello diciamo più leale, quello più che appartiene a chi fa politica nel sano principio, nel sano modo, è quello della tanta gente che si reca. E badate bene, io sono un civita vecchiese, uno che comunque sia è nato in questa città, conosco tante persone della mia età, conosco tante persone più grandi come conosco tante persone più piccole di me. Sono uno che ha vissuto, che ha consumato i jeans e le scarpe nelle strade di Civitavecchia e quando si assapora il sentore di una non vittoria, di un abbandono, di uno scollamento, di un'amministrazione uscente, anche se come ho detto è un caso raro perché quella di Moscherini finalmente è avvenuta dopo tanti anni di decessi delle amministrazioni precedenti, si assapora già che l'elettorato non si avvicina, non si rivolge a Perù a farsi vedere, non si mette in prima linea, non si fa vedere dalle telecamere, non partecipa alle cene, non partecipa alle riunioni. Non è spinto questo elettorato, questo elettorato non ha bisogno di essere invogliato. Io ho visto un elettorato entusiasta di dire al sindaco Moscherini non ci abbandonare, continua con la paura di un sindaco, di un personaggio noto come quello che abbiamo che potesse avere magari l'input o la voglia di non... E io tranquillizzo, il sindaco Moscherini farà una grande campagna elettorale che si vedrà in questo mese e ha voglia di vincere per essere riconfermato, perché ci crede, e per concludere nei suoi prossimi cinque anni il progetto Civitavecchia, come ha detto nel suo slogan. E i Civitavecchisi vedranno allora in quel momento un altro volto di questa città, già lo vediamo con la viabilità, è vero, ce la criticano perché ci sono tante rotatorie, un'amministrazione non si deve spendere per le rotatorie. No, un'amministrazione non si deve spendere solo per le rotatorie, ma si deve spendere anche per la viabilità. E aver fatto tante rotatorie, lo dico all'opposizione che spesso critica questa parte delle manutenzioni, che è una piccola parte di quello che ha fatto l'amministrazione Moscherini, io l'abbiamo visto nei volumi, che non è un libro dei sogni, sono cose fatte veramente che i cittadini di Civitavecchia possono andare a costatare con mano. La viabilità, il rinnovo della viabilità, è un segnale positivo che prima di questa amministrazione non ha saputo fare nessun'altra. Il fatto che prima c'erano solo i sensi unici con i semafori, causando tanti incidenti negli incroci, dove non c'erano neanche quello, neanche i semafori, ha fatto sì che oggi con tutte queste rotatorie, anche se ci sono stati degli errori di competenza, da chi comunque ha elaborato i progetti, che andranno sicuramente rivisitati in qualche zona, perché poi le rotatorie quando sono fatte sono nel primo anno una fase sperimentale, però aver fatto una modifica così drastica nel cambiare quello che era il pericolo degli incroci su tutto il territorio cittadino, è una grande impresa di questa amministrazione, che non è spesa dal sottoscritto, perché oggi è assessore alle manutenzioni, o dal sindaco Moscherini, come una risoluzione di quello che era il programma del 2007. No, è una cosa di cui ne andiamo orgogliosi, ma che è una piccola cosa. L'amministrazione Moscherini ha saputo mettere le mani, l'abbiamo visto con l'abbattimento di Siles, una cosa storica di cui si parlava per anni, per decenni, probabilmente si parlava prima che, da quando il sottoscritto può darsi che non, credo si parlava di Siles, in periodi in cui magari il sottoscritto frequentava le elementari. Oggi vediamo realizzare cose che comunque in città si aspettavano da anni, ma il rinnovo del mercato, che è chiaro che quando si va a mettere le mani in un castello che è di epoca medievale, che non ha più le fondamenta, le previsioni che gli ingegneri, che sulla carta danno dei tempi, poi nell'atto pratico e nella realizzazione creano comunque delle differenze, dei disagi, delle modifiche che vanno fatte, ma il coraggio a mettere le mani nel mercato, per lasciarlo lì dov'è e per dare ossigeno a coloro che vi lavorano, chi è che lo ha fatto? Qualcuno prima di Moscherini? La risoluzione delle termi che oggi si troverà a Civitavecchia e chi verrà? Io mi auguro il mio sindaco Moscherini con la sua amministrazione, ma anche se dovesse essere un altro. È un procedimento avviato, che si ritrova a un'amministrazione, questa si chiama sana amministrazione. La Marina, una piazza così importante, in una città che oggi vede veramente la costruzione e la realizzazione di tanti quartieri, quartieri nuovi che comunque necessitano interventi perché lasciano desiderare i mancati servizi che non ha causato l'amministrazione Moscherini, perché io ho fatto, lo ricordo, il Presidente per dieci anni, nella zona più periferica, la zona più a nord, quella che confina con la parte alta dell'autostrada, che confina con i paesi del comprensorio a Lumiere e Tolfa. E beh, io ho iniziato la mia attività nel 2001 e già presentavano delle grandi carenze questi quartieri di 6.000 abitanti come Saliborio, Cisterna Faro, Padri Domenicani, e non è stata l'amministrazione Moscherini. L'amministrazione Moscherini ha creato una piazza per la soddisfazione di Civitavecchiesi, perché non se la va a godere il sindaco. Il sindaco è invitato e va a fare la sua parte in rappresentanza di Civitavecchia quando viene chiamato, quando l'esigenza lo ricorre, ma quella è una piazza frequentata da tanti Civitavecchiesi che hanno apprezzato quell'intervento e l'unica parte che purtroppo non è stata completata, io mi sarei aspettato, avrei voluto regalare ai Civitavecchiesi insieme all'amministrazione rappresento anche il compimento di quell'opera e che è stata intralciata comunque per avere i documenti in regola e quant'altro, sarà completata nei prossimi mesi, nei mesi in cui ci sarà la nuova amministrazione e sarà un'opera sacrosanta di questa città che vedrà stato, intervento, sarà un luogo di ritrovo in un momento così importante, avere una zona così vicino al mare per dare serenità alle famiglie che nulla hanno oggi, perché parliamoci chiaramente, la situazione è veramente drammatica dal punto di vista dei coefficienti, dal punto di vista di quello che ancora si chiede a livello governativo agli italiani e Civitavecchie è un po' lo specchio dell'Italia in un panorama visto nazionale con le richieste rinnovi di quelle che sono le tasse relative alla casa e quant'altro vedono veramente in disperazione, non per l'amministrazione Moscherini che ha contribuito a mantenere le buste paga a tanti lavoratori che sicuramente hanno messo in crisi anche qualche settore della nostra amministrazione dove io non entro nello specifico perché non sono assessore al bilancio e perché non sono il presidente delle municipalizzate e delle holding però dico che un'amministrazione non ha lasciato a piedi nessuno si è parlato poi della questione dei contributi che comunque realmente si stanno versando ma che non hanno causato né la paralisi di ciò che si matura per i lavoratori né la paralisi soprattutto della cosa più importante dello stipendio per portare a casa il pane quotidiano alle famiglie allora dico questa è un'amministrazione che sarà ricordata per il buon lavoro fatto ma un'amministrazione seria che va dicendo e l'ha detto ieri il sindaco ho bisogno di altri 5 anni perché voglio stare qui non voglio andare via e regalare questo volto nuovo a Civilevecchia come i 10 anni in cui ho lavorato al porto allora questo messaggio cari amici di Civilevecchia deve entrare nella testa della gente e nella tanta gente che già comunque ha saputo apprezzare il lavoro e che si è vista ieri perché va detto e va ricordato ieri non ci sono state persone che sono state scomodate dentro casa e portate con forza perché al sindaco serviva il numero no noi non avevamo bisogno ieri di un numero legale per dimostrare alla cittadinanza che avevamo il brevetto per presentarci no ieri c'è stata tanta gente che si è mobilitata perché incuriosita di vedere il sindaco che poco si è visto negli slogan in questo periodo e adesso comincerà a dire il fatto suo ha iniziato la sua campagna ed è pronto anche ai confronti perché uno che ha in tasca la sicurezza la sinergia la sincerità di ciò che ha fatto non ha paura di nessuno il sottoscritto non ha paura a presentarsi nei confronti perché comunque sia sono carico sicuro e ricco della mia verità della mia politica parliamo di politica anche se si dovrebbe poi affrontare anche qualche altro argomento relativo a ciò che accade io per esempio di ieri siccome è mio costume fare una politica corretta quello che mi è piaciuto è vedere un sindaco che sopra il palco non ha parlato di suoi avversari non ha parlato di denigrazione ma ha parlato di progetti e questa è una cosa importante oh finalmente la facciamo finita un po' di distensione anche un confronto tra i capi saldi perché parliamoci chiaramente le coalizioni che arriveranno a un confronto stretto da quello che prevedo e da quello che sento sono due il resto sono candidati che comunque sia hanno un loro programma ma si affacceranno nella decisione politica se ci sarà il ballottaggio quindi una battaglia a due anziché a nove non posso pensare che ci sia uno stravolgimento dai numeri che vedo di partecipazione tanto da una parte che anche dall'altra non mi sento di dire ci sarà un risultato a sorpresa perché vedo altri sindaci c'è chi ha poche liste chi si presenta con una novità troppo giovane chi si presenta comunque con una novità un po' più di protesta un po' più di come si dice un po' più da fenomeno da palcoscenico visto con tutto rispetto per quelle persone perché comunque fanno il loro lavoro ed è giusto che abbiano il rispetto di quello che presentano io rispetto di tutti però quello che mi ha fatto ritornando a quello che dicevo prima a piacere ieri è che in questo confronto ho visto ieri il sindaco pacato non è agguerrito con gli avversari ha parlato di quello che vuole fare e la gente è stata contenta per questo perché poi i civili da vecchiesi in rappresentanza di quello che è il popolo italiano sono stanchi di vedere anche nei confronti questo dibattito tra due esponenti di coalizioni diverse che se la cantano e se la suonano hanno sempre ragione non si capisce mai chi è che sbaglia anzi il sindaco in quelle occasioni ha saputo anche dire in certi casi ho sbagliato ma ho sbagliato perché cercavo di fare bene e io credo che chi ci ascolta chi sta davanti a quello strumento che è la telecamera non voglia altro che vedere una persona umile semplice un padre di famiglia che anche nelle circostanze nelle rare circostanze sappia dire ho sbagliato non rimedierò all'errore però a me sta a cuore quello che è la massa dei miei figli che compongono la città come per la politica nazionale l'Italia e è ora di farla finita di venire a parlare una logica una lingua politichese incomprensibile la gente già non ce la fa più innauseata della politica vuole un messaggio chiaro un discorso semplice dei punti chiari magari pochi ma semplici che vadano consolidati punti che nell'interesse della collettività che abbracciano e quelli che sono le materie più importanti l'occupazione l'emergenza abitativa lo sviluppo della città il cambiamento del suo volto ma con idee chiare fattibili quando si parla della fine del mercato lo può dire l'amministrazione Moscherini che l'ha iniziato e che lo sta portando a compimento non lo può certo dire chi negli anni non ha fatto nulla su quel settore non lo può certo dire chi vi lavora comunque e che è stato dietro a questa iniziativa a dare consiglio a un'amministrazione che ha avuto il coraggio di mettere le mani su quel settore lo dico da organo super partes perché non interessato sia nella realizzazione sia nel momento in cui ci si è lavorato io ero prima presidente di circoscrizione poi assessore al verde non ho mai messo bocca ho dato una mano quando mi è stata fatta qualche richiesta da qualche persona che comunque è interessata al mercato e aveva esigenza di piccole cose come per la marina anche la marina amici di Civitavecchia ci incontriamo tutti i giorni e parliamo lo voglio dire in maniera proprio semplice ma cosa c'era prima della marina al waterfront una piccola spiaggia e un parcheggio bene è vero il parcheggio è utile perché c'è esigenza ma non c'era una grande piazza stupenda che vede oggi la possibilità non di fare come si faceva ai tempi del Tinturre in un parcheggio un'area di folclore di spettacolo per l'estate per i Civitavecchiesi il comprensorio vede un'area dove c'è una piazza vera e propria vede un rinnovo del litorale di Taondo Revelle dove i giovani invece di andare come il sottoscritto negli anni in cui avevo 24-25 anni a Fregenio a Tarquini a Lido oggi sono i paesi del comprensorio romano a venire nella nostra città perché è una città di mare capitale dove insiste il porto è una città che sta dando molto al turismo e che sta cercando in tutti i modi con le idee del nostro sindaco Gianni Moscherini che è quello che ha fatto il porto e che è quello che ha fatto nominare il presidente del porto perché è giovane e cresciuto nelle mani del nostro sindaco quindi colui che sta preparando degli sviluppi progettuali per intrattenere 5-6 mila turisti che transidano la nostra città per regarsi a Roma e che probabilmente andranno a Roma nel futuro a vedere tutto quello che è la storia della città più importante del mondo ma si fermeranno nella città capitale balneare perché avranno un progetto importante che è già iniziato con la Morina e vedrà con lo sviluppo del rinnovo della costa vedere i città che è avere un volto di livello nazionale a livello di turismo e questo ci deve far ben pensare perché con le terme lo sviluppo del porto legato al turismo i civili da vecchiesi non avranno più bisogno di andare a cercare lavoro fuori non ci sarà più il problema di vendorari perché questa amministrazione risolverà anche quello per non parlare poi del piano casa e di tutti gli sviluppi che stanno per partire a livello di costruzione ma queste sono non solo chiacchiere se c'è qualcuno che vuole parlare come venire a fare il confronto io sono disponibile a farlo in maniera pagata senza offese senza denigrazione dare un contributo a Ciechia per far capire chi è che la sa più lunga chi è che dice la verità chi dice le bugie Civitavecchia ha messo in campo tante opere che partiranno nei prossimi 5 anni e che probabilmente hanno anche acceso l'appetito di chi si vuole candidare e vuole venire a amministrare perché comunque una persona che si dedica a una città c'è stato tanti anni e ci vuole ritornare mi riferisco al primo avversario di Moscherini è perché comunque vede che ci sono possibilità non va detto come si dice che Ciechia è arrivata alla fine che Ciechia si trova in uno stato di scollamento no forse dal punto di vista dei coefficienti sì ma non è l'unico comune d'Italia è proprio l'Italia che sta in crisi è proprio il mondo intero che sta in crisi lo vediamo a livello americano il livello americano ci fa capire delle condizioni in cui stanno i suoi abitanti che i coefficienti del debito sono stati innalzati dal grande presidente Obama perché? perché non ci sono più le condizioni per poter vivere con questo sistema e allora di che cosa si deve lamentare l'amministrazione Moscherini che in un collasso nazionale l'unica svizzera che può essere Civita Vecchia e che si è saputa mantenere da sole può continuare ad andare avanti ma non si deve lamentare dei coefficienti che è ereditato a livello governativo ma questa è una barzelletta allora perché raccontare i Civita Vecchia che già stanno in depressione perché vogliamo parlare degli anziani gli anziani non ce la fanno più a vivere le bollette sono troppo alte ci sono persone che io è meglio che non parlo di questo fenomeno perché ho una mamma che ha 75 anni se no mi vengono i lacrimoni agli occhi che quando vanno a ritirare la pensione e pagano le tasse della luce della bolletta dell'acqua gli rimangono pochi spiccioli ma quelli di colore bronzo allora dico di che cosa vogliamo parlare qui ci sarebbe veramente noi tutti i politici di mettersi intorno al nostro sindaco che è già uno largo di manica perché spesso il suo stipendio lo devolve in beneficenza a tutti coloro che si rivolgono a noi che hanno bisogno di fare un'azione umile lavorare per un anno due anni gratis per dare una mano ai Civita Vecchiesi ma soprattutto alle persone anziane perché si parla di giovani ma i giovani anche se oggi non hanno uno sviluppo hanno bisogno di aiuto perché sono il futuro della nostra città del nostro comprensorio ma agli anziani che ci pensa che non hanno più la forza di rimettersi a lavorare non hanno più le possibilità e hanno pensioni con coefficienti da miseria hanno pensioni con coefficienti da miseria ci sono pensionati che prendono 250 mila lire scusate la foga 250 euro al mese che sono ciò che hanno ereditato dal povero marito che non c'è più e che ha lavorato 40-50 anni e allora facendo l'operaio dico questo dovremmo dire bisogna che il governo anche se tecnico si metta in testa una volta per tutte di dare la possibilità ai rappresentanti locali quelli che hanno la fantasia di avere confronti più spesso con la macchina centrale nazionale perché le leggi devono essere partorite anche su città come Civitavecchia non solo su grandi metropoli modello Roma o modello Milano Civitavecchia ha bisogno che chi rappresenta la stessa deve avere dei confronti per poter dire cari signori si stanno mettendo in campo delle leggi oggi sulle case che stanno inginocchiando la città la gente probabilmente fra qualche tempo non potrà pagare più nulla neanche la luce neanche il gas perché non ce la fa più e allora da chi andremo a prendere le tasse è chiaro che a livello nazionale e non dare la colpa a Moscherini che tanto ha fatto per questa città bisognerà trovare un altro sistema bisognerà capire dove vanno gli sprechi perché da quello che mi si dice e non a livello di palazzo del piccio dove ci sono articoli 90 persone che guadagnano un stipendio da miseria a livello nazionale nei grandi palazzi io adesso ho la possibilità di frequentarli ci sono fiorfiori di strutture che stanno intorno alle classi dirigenti dagli onorevoli e quant'altro che guadagnano cifre sorbitanti parliamo di cifre all'inverosimile e allora lì bisogna ridare dignità all'Italia cercando di portare quegli stipendi a uno stipendio giusto che si fa una vita discreta ma non una vita che uno uno stipendio che uno guadagna in sette generazioni questo è quello che non va e allora io sono pronto a dirlo anche nei confronti pubblici e non ce l'ho vedete con l'opposizione assolutamente no perché l'opposizione a me non mi ha fatto nulla io sono uno di quelli con i quali ci dialogo perché credo che opposizione e maggioranza se vogliamo risollevare questa civi vecchia se la vogliamo far diventare veramente la rappresentante di tutto il comprensorio romano dobbiamo unire le forze non farci dispetti perché deve crescere cività vecchia civi vecchia deve essere un qualche cosa che lavora in sinergia anche con la costruttività di un'opposizione che magari è stata poco costruttiva in questi cinque anni perché aveva in mente di prepararsi per essere l'alternativa e quindi non poteva dialogare con l'amministrazione e lo si capisce bene adesso dal progetto però comunque dialogare nel futuro in maniera costruttiva non intralciare non andare a mettere in mezzo le forze in campo per bloccare le risorse di questa città perché così facciamo male solo a noi stessi ecco lei parlava di dispetti e aveva parlato anche della sua sede elettorale una sede elettorale che ha visto però non soltanto dei cittadini venire per conoscere il progetto che è del candidato al Consiglio Comunale Giancarlo Frascarelli ma per fare altro noi io ho cercato di adottare delle misure di sicurezza comunicandolo alle forze dell'ordine come prevede la legge organizzandomi con dei cartelloni appositi per comunicare che in base alla legge X si possono sorvegliare cose private quindi la mia serranda perché nel 2006 quando apri quell'ufficio diciamo piccolino di 20 metri quadri che è di proprietà di mia nonna oggi di mia madre e dei miei zii e in quei 20 metri feci la campagna elettorale e ricevetti di tutto quindi dovetti poi io dove mettere mano alla mia tasca per risanare tutto quello che era la parete a muro esterna e questo mi ha messo nelle condizioni di dover prendere le precauzioni bene sono stati presi già i primi individui io non voglio divulgare per correttezza e per rispetto perché ho ricevuto le scuse da parte di chi mi ha mancato di rispetto in maniera grave e non solo la mattina è stata un'altra cosa ho ricevuto un fogliettino con delle degli inviti ad avere non c'è problema raccogliamo tutto registriamo tutto vediamo come si comportano questi signori che hanno un viso ben noto perché si vede tutto è stato comunicato alle forze dell'ordine perché bisogna avere rispetto per gli stessi siccome tutto parte se il sottoscritto che è a titolare promotore di quell'ufficio decide di fare la denuncia appropriata all'offesa se questi signori hanno un comportamento consono e rispettoso non solo per il sottoscritto ma per tutte le brave mamme di famiglia e i giovani che sono negli uffici e che stanno lavorando con rispetto perché lo voglio dire noi ancora non abbiamo attaccato un manifesto e non abbiamo attaccato un manifesto fuori posto stiamo per portare avanti quella che è una logica del manifesto pulito messo nello spazio giusto con rispetto per gli avversari non solo di coalizione ma anche per gli avversari dell'opposizione della coalizione antagonista opposizione non c'è più perché siamo in una fase ormai di elezione di campagna di torna aperta e questo deve nutrire da parte nostra il rispetto del prossimo non è che perché uno ha tanta gente di fuori e l'unico danno che fa la città e che spesso ci sono le macchine in doppia fila deve ricevere non dal cittadino che è contento che si rivolge a noi perché se ne frega degli slogan dei politici che tappezzano cività vecchia deve avere l'antimpatia del politico che pensa di prendere meno consenso e allora si mette a fare i due spettucci come il bambino che va all'asilo se questo avverrà perché poi sapremo chi sono i mandanti di questi signori e lì mi vorrò divertire perché vedremo se sono appartenenti alla mia coalizione o alle coalizioni opposte lo dico perché chi mi ascolterà saprà che mandare delle persone a fare degli atti non civili soprattutto in campagna elettorale non è cosa buona e giusta e di conseguenza si rischia poi lì di avere una bella denuncia non solo di essere svergognato su tutti gli emittenti televisivi a cominciare da questa come soggetto non proponibile e non candidabile per governare questa città diciamo per chiudere che il detto in amore in guerra tutto è lecito non è tanto vero poi bisognerà conservare sempre delle regole mi riferisco all'antagonista perché o voglio dire chiaramente se no si può pensare che io mi riferisco all'antagonista primario del nostro sindaco che è l'onorevole Titei candidato sindaco no non è questo perché forse è l'unico che non c'entra nulla e lo dico in un momento in cui io parlo di politica ma ho rispetto per l'avversario perché chi ha fatto il mio primo gesto ci sono le riprese lo dico così mi hai dato la possibilità appartiene a un'altra coalizione dell'opposizione perché ha qualche fratello candidato ora la cosa come si dice Tori Maseno io ho fatto tanti anni carate Tori Maseno si deve sia zero a tutto si riparte con il confronto se ci sarà rispetto rispetto si avrà se no noi abbiamo i numeri per fare ogni tipo di battaglia politica civile ma non abbiamo certo paura di nessuno di chi ci viene a minacciare bene io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi e per aver fatto anche questo invito a mantenere i toni della campagna elettorale moderati sulle giuste file la ringrazio ancora una volta per essere stato con noi ringrazio anche i nostri telespettatori per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi a tutti grazie a tutti Grazie a tutti